Il serpentone che caratterizza questa edizione del sasso maggiore. 147 per Paolo Burgazzoli e Giorgia Pertosa. Vengono anche loro dall'Oltrepo, Cremola Corse. Vengono anche loro dall'Oltrepo. Vengono anche loro dall'Oltrepo. Vengono anche loro dall'Oltrepo. Vengono. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.